Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio in esterna. Eccoci qua, siamo come ogni tanto capita, sovente capita in quel di Viareggio perché andiamo a trovare l'amico Giacomo che è il titolare della gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio perché noi non andiamo a trovare Giacomo, ma andiamo a trovare la gioielleria perché dentro la gioielleria ci sono gli orologi e quindi andiamo a fare una panoramica delle novità del mese, quello che è arrivato, quello che non è arrivato, siamo già quasi sotto Natale, si sente perché la temperatura è frizzantina, la vetrina lì, anche la vetrina dice già che siamo a Natale, si vede anche il riflesso, si vede anche il Piero, purtroppo ragazzi l'abbiamo dovuto portare anche lui perché se no lasciarlo da solo a casa ci dispiace tanto, facci vedere l'orologio del giorno Piero. E' K-Watch GMT, che bellino, si, molto bello, ti piace tanto via? Sì, ma questo l'ho acquistato a Tortona, a Tortona, bravo, io invece indosso il Rolex Explorer da 39 mm, orologio da tutti i giorni, ballo, 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 ci piace eh? Sì, sì, ballo, caffettino? E per forza, dobbiamo fare della cenetta, la cenetta del caffè, pago io, lo pago io, ah sì è vero. Allora un pochino poi anche le novità che sono arrivate, no? Se c'è qualche, ma c'è qualcosa che sai o, siccome arrivano orologi aranda, no? Quindi nel giro di qualche giorno la situazione cambia da così a così, anche se c'è qualcosa che io sapevo, adesso c'è qualcosa in più, che come sorpresa salta fuori, guarda cosa c'è, capito? Bene, bene, con Giacomo è sempre così. Oh, siamo arrivati al barietto, dai. La mamma di Giacomo. Casomai è Giacomo che è suo figlio, hai capito? Eh sì, ma io non posso prendere il caffè. Vai, ti do il permesso, lascia di là, qui nella camera e prendi il caffè. Il sistema per scroccare lo troviamo sempre. Il caffè è offerto. Abbiamo ascrocato, eh? Sì. Grazie mille, arrivederci. Ciao. Ciao ragazzi. È già aperto, alle 10 è aperto, sì. È aperto perché a lunedì sotto le feste è aperto, si vede. Eh, ma che è il casino, come si fa a fare? Eh, ho capito, ma lui mi ha dato l'ok. Guarda lì le ragazze. Buongiorno. 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 Eccoci qua, siamo all'interno del negozietto, della baracca, come si suol dire. L'amico Giacomo è già lì che ci aspetta seduto, bravo, bravo. Aspetta le nostre direttive. Quale vuole essere lo scopo della puntata? Ecco, i regali di Natale. Quello che possiamo ritenere utile come suggerimento per un regalo di Natale. Un autoregalo o magari anche un regalo a terzi. E quello deve essere un pochino più particolare perché è nascosto. Il regalo a terzi è nascosto. Quindi, incominciamo a vedere gli orologi che abbiamo preparato. Allora, ciao Giacomo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Io direi di iniziare dalla parte più bassa del mercato, no? Sì. Da quelli che sono sotto i 1000 euro o in linea con i 1000 euro. Insomma, quelli lì simpatici. I marchi sono praticamente quelli che conosciamo, che vanno anche per la maggiore, tra virgolette. Io, se dovessi consigliare un orologio, un classico, andiamo sul classico proprio di quelli che tutti vogliono e tutti comprano, è l'Hamilton Kaki Field. Io consiglierei sempre quello. Sì. Qua ce l'abbiamo nella versione con quadrante blu. Eccolo qua. Questa qui è la versione titanio. Allora, la versione titanio, per dire la verità, sfora i 1000 euro. Io, perché è un orologio a 1200 euro. Io l'ho preso perché nella sua versione classica, cioè acciaio quadrante nero, il classico Kaki Field Auto, è un orologio che costa 825 euro di listino. Di conseguenza siamo pienamente dentro il budget che ci siamo dati. È sempre a cavallo dei 1000, no? Di listino, ragazzi. Poi vi ricordo che è il listino questo. È il listino, eh. Sempre di Hamilton c'è la nuova uscita. Sì. Che come regalo di Natale è veramente, no? Expedition. Oh. Famiglia che ovviamente... Questo è da 41, vero? Questo è da 41. Poi abbiamo la versione da 38. 37. 37. E nelle varie, poi dopo allestimenti, sia di colorazione di quadrante, sia a livello di bracciale e cinturino. Questo è un orologio che è ideale come regalo di Natale, perché? Perché c'è la bussola, così quando ti perdi nella neve, hai capito? Questo è bello. Quando vai in Lapponia a cercare la casina di Babbo Natale, c'hai la bussola e non ti perdi. No, questo è veramente un bello orologio. Al di là di tutti i discorsi che si possono fare, mi è piaciuto. Già da marzo, quando lo vedi a marzo scorso, pensa un po' da marzo, possiamo parlarne ora che è Natale. E questo qua invece è il Performer. Performer, altra linea nuova per quanto riguarda il marchio Hamilton. Questa era uscita, diciamo, durante l'estate e poi invece ora, negli ultimi mesi dell'anno, è uscita l'Expedition. Sono due belle novità che sono andate a completare. Però sono due stili completamente diversi. Sportivo da avventura a sinistra e elegante, anche se abbastanza sportivo, quello a destra. Insomma, dipende un pochino da come è il vostro mood, da cosa volete regalare, da cosa volete regalarvi. Ghiere in acciaio sull'Expedition, lunettina in alluminio, il contrattamento PVD per quanto riguarda il performance. Insomma, sono due stili totalmente diversi. Belli, belli, belli. Diciamo che per l'orologeria che trattiamo in questo negozio, l'entrata di prezzo è Seiko o Tissot. Per quanto riguarda Tissot, che è il classico marchio svizzero, abbiamo un entry price sui 300 e qualcosa euro col PRX, però a quarzo. Ah, eccolo qua, sì, questo qua è il PRX al quarzo, che poi ha anche un suo perché, perché al quarzo va benissimo questa versione qua. Sì, anche perché l'originale era al quarzo, sicché se proprio vogliamo essere in linea con la riedizione andrebbe presa al quarzo. Però, ovviamente, per rispettare la buona orologeria, la meccanica svizzera, abbiamo anche le versioni automatiche, sia nella versione da 40 mm che nella versione da 35 mm. Entrambe valide, siamo sempre dentro le 1000 euro, perché siamo sulle 800 euro di listino, sicché un orologio che già abbiamo visto, che conosciamo molto bene, tra l'altro che ha avuto un ottimo successo, che continua a vendere, perché è un orologio che piace veramente tanto. Sì, c'è da dire che il quarzo ha la sua ragione di esistere, bla bla bla, però il quadrante della versione automatica, al di là della meccanica, che ci piace la meccanica, è veramente più lavorato, con questa tapisserie a quadratini, diciamo, a quadratini semplici, è bello, questo qua è bello. Ciascuno con l'orologio da bracciale integrato, che non c'è nemmeno bisogno di dirlo che come regalo di Natale va bene, perché va già di suo, inveglie in canale maggiore. Tutto il comparto, ovviamente, svizzero, che è rappresentato da Tissot, abbiamo visto Hamilton, Mido, Mido tra l'altro possiamo spaziare tra l'orologio classico e l'orologio più sportivo. Ah sì, questo qua è il Mido Multiford, è particolare perché guardate, il suo quadrante con i numeri 3, 9 e 12, come siamo abituati a vedere in tante configurazioni, però qua c'è la sua originalità. Poi il quadrante blu-viola così soleil, addirittura non riesco a capire se la ripresa viene bene, perché è veramente particolare come orologio. Ma non ce l'hai qua il Chemin de Tourelle, però anche quello è bello. No, lo Chemin de Tourelle non l'ho preso, però comunque sì è presente in negozio, altro bel classico della linea Tissot. Poi di Mido abbiamo quelli più sportivi. Sì, io nello specifico qui abbiamo un Tribute, il Tribute è un diver che comunque sia, è alle soglie dei 1000 euro, sicché è un ottimo orologio, ben costruito, molto bello esteticamente. Ricordiamo che della famiglia Mido è il diver che è in stile un pochino anni 60. Sì, per me il Tribute è l'orologio vincente, mi è sempre piaciuto, in qualsiasi configurazione. Poi c'era anche quella versione per l'Italia con solo la data, che era particolare. E a proposito di per Italia, sto qua, il GMT solamente per l'Italia. Questo l'abbiamo preso, è già un upgrade, perché comunque sia un GMT, un pochino più costoso rispetto al normale, si passa la soglia delle 1000 euro, però questa è una versione da tenere in considerazione perché è una tiratura, 250 pezzi, realizzata solo per l'Italia. La caratteristica è questo, i 30 minuti nella parte bassa in verde. Che rappresentano la parte di luce della giornata. Sì, i 30 minuti sarebbero poi le 12 ore. E le 12 ore superiori sono nere perché sono di notte. Ecco, qua siamo sempre, insomma, a cavallo dei 1000 euro, sono un pochino sopra, però siamo lì. E poi come marchio, diciamo, sempre in quella fascia lì ci sono i Seiko. Sì, i Seiko, ovviamente altra scuola, scuola giapponese, usciamo dalla Svizzera. Seiko 5, ecco qua, questa qua è una delle ultime configurazioni uscite perché sono usciti prima di, questi qua sono i Seiko 5 Sport, quelli con la cassa slim, tipo l'SKX per intenderci. Prima sono uscite le versioni più canoniche, standard possibili. E poi sono uscite quelle particolari, come questa qua, che è arancione con gli accenti neri, con questa striscia nera anche orizzontale. E sono particolari, sono anche abbastanza, oserei definiti da collezione. Diciamo, se uno vuole farsi una collezione di Seiko 5, questi qua sono particolari. Poi al di là di quelli che sono magari disegnati apposta per i manga e lì è roba per te che te ne intendi. Sì, allora diciamo che la linea Seiko 5 è quella dove la Seiko gioca anche un pochino di più, con le edizioni speciali, con le tirature. Ovviamente vi permette di prendere un orologio legato magari, come dicevi te, a un manga piuttosto che a una serie televisiva, spendendo sempre una cifra contenuta. Qui siamo sui 350 euro di listino, ne esiste alcune versioni più semplici, anche a 300 euro di listino. E poi ovviamente saliamo a secondo delle funzioni o della meccanica che montano. Ricordiamo che c'è anche il GMT che è uno dei più venduti, siamo alle soglie dei 500 euro, 490 euro. Però Seiko non è solo Seiko 5 perché poi si sale anche con i prezzini. No, se vogliamo salire sui prezzini, rimanendo ovviamente sui diver, ovviamente abbiamo tutte le linee. Questo qua è tanta roba. Questo qui nello specifico fa parte della famiglia Sumo, è diciamo il Prospex con la cassa un pochino più consistente. Poi abbiamo il Samurai, abbiamo il Turtle, sono tutte linee che comunque sia... E questo? Questo è già un'evoluzione. L'ho preso perché sporiamo già il tetto delle 1000 euro a un mini Marine Master. E questo qua l'ho recensito anch'io. Sì. Qual è la differenza? Già qui si monta la meccanica di livello superiore, la 6R35 a differenza della 4R35. Fa leggermente lievitare il prezzo, ovviamente non è solo una questione di rifiniture di meccanica, ma anche di qualità in generale dell'orologio. La costruzione a mio parere rimane migliore su quelli di fascia prezzo superiore. Oppure che per chi vuole qualcosa di un pochino più elegante c'è il presore. Sì, oppure se no, se volete un orologio più pulito, ora ne ho preso uno per farvelo vedere, ma ci sono anche i presaggi quelli più classici, senza lunetta esterna. Ricordiamo che i presaggi hanno un prezzo attestato dai 400 fino anche alle 1000 euro con lo Sharp Edge, che è quello più rifinito, più bello, col quadrante lavorato. E non ci abbiamo messo i King Seiko a proposito di... Noi ci abbiamo messo i King Seiko, però ecco, i King Seiko sono già orologi, che nella versione da 37 siamo alle 1800 euro, con la nuova versione da 39 siamo a 2100 euro. Come vedete è un'altra fascia prezzo, dopo vi faremo vedere anche le fasce prezzo superiori, però logicamente dipende tutto dalle tasche del vostro babbo natale. Saliamo di livello, cosa facciamo? Sì, saliamo di livello e io direi di far vedere un marchio che in questo momento, grazie anche al cambio di marcia che ha avuto, sta facendo dei prodotti fantastici. Parliamo di Longin, sicché ritorniamo un'altra volta, ci spostiamo dal Giappone alla Svizzera. Allora, ultimi pezzi, però per il vostro regalo di Natale siete ancora in tempo. L'Heritage da 35 mm. La vecchia versione col vetro pexiglass permette di avere ancora un vecchio prezzo, cioè un prezzo che ha un'accessibilità diversa rispetto ai nuovi. Questo qua è fuori produzione, non è più a catalogo ufficiale Longin, ma qua in negozio hai ancora un piccolo stock di questi orologi che riesci a vendere a dei prezzi che attualmente è possibile avere. No, perché già la sua versione, vero con contenuti tecnici migliori rispetto a questi, è slittata di prezzo e di conseguenza anche con un buon trattamento il prezzo rimane sempre leggermente più alto. Ecco, questo qua è proprio veramente un regalo consigliato a chi vuole fare qualcosa di classe, no? A Natale che si vuole regalare qualcosa, la cravatta, il sigaro, gli whisky. Questo orologio qua è elegante, è proprio quello che va di pari passo con quelli. Fino ad ora abbiamo visto sportivi, sportivi. Lo possiamo definire un po' l'orologio senza tempo, lo comprate oggi, tra vent'anni sarà sempre il solito, tra 50 uguale. Lo lasciate in eredità e chi lo riceve sicuramente troverà un bello orologio. E poi sempre per rimanere ovviamente nel marchio Longin... Questo qua è il diver di casa Longin, l'Hydro Conquest, questo qua è la versione. L'ultima versione è quella con ghiera in ceramica, il quadrante lo vedete è più pulito rispetto a quelli precedenti che avevano anche le stanghette insieme ai bicchierini. E questo qua è veramente l'ultima... Ecco, quando Longin fa i fondelli chiusi così è tanta roba, con la clessidra lata, Ernesto Francillon scritto sopra, tanta roba. Allora, orologio ovviamente da 2000 euro di listino, sicché siamo totalmente usciti dalla fascia prezzo delle 1000 euro, però per chi vuole ovviamente, prima abbiamo fatto vedere qualche sportivo di diverse marche più economiche, ma per chi vuole totalmente uscire ovviamente dalle prime fasce prezzo per l'orogeria svizzera, possiamo già accedere a Longin che per quanto riguarda l'Italia è un marchio storico che è presente ovviamente nei negozi, ma soprattutto ai polsi degli italiani da tanti tanti anni. Diciamo che nel corso degli ultimi 70 anni ha sempre rappresentato la buona orologeria al polso degli italiani. Ma Longin è capace di andare anche più su col prezzo? È capace di andare più su, ovviamente ci affacciamo a tutta quella che è l'allongine che ha già subito quel cambio di marcia di cui si parlava prima e allora ovviamente, orologio grande atteso, lo Zulu, nella versione questa da 39. Oh, sta qua va per la maggiore, 39 con il suo bellissimo calibro GMT, eccolo qua, ghiera ceramica. Allora si può dire che tra l'idoconquest che abbiamo fatto vedere prima e questo Zulu manca un tassello, non l'ho preso perché se no la puntata diventava di 5 ore e vi avremmo anche annoiati, manca lo Spirit. Lo Spirit è un tassello intermedio che si posiziona come fascia prezzo tra l'idoconquest e lo Zulu. Ricordiamo che lo Zulu è già uno... Lo Spirit è anche lui, eh? Sì, ha uno Spirit però con l'aggiunta del GMT. Invece noi parliamo dello Spirit basico con la lunettina in acciaio liscia e non ovviamente la classica ghiera girevole. Cioè io sto facendo vedere le finiture perché sono veramente di primo ordine. Guarda qua, da paura, sta spazzolatura qua col bisello lucido si riesce a vedere, mamma mia. E poi anche lo Spirit che non è GMT, anche lui ha queste finiture qua. Stiamo parlando della stessa tipologia di cassa, quindi mamma mia. E poi abbiamo il... E poi alla fine l'orologio che è stato attesissimo quest'anno è finalmente arrivato, il Legend Diver da 39. E qua lo facciamo vedere nel quadrante blu, che è quello che si fa vedere sempre di meno, para ponzi ponzi pu. E poi quello con il cinturino in pelle perché è sottovalutato secondo me. Sì, cinturino in pelle o nella versione blu il tessuto. E anche questi qui due sono interessanti perché il bracciale con l'anima a chicco di riso è stata una bella introduzione nella famiglia dei Legend Diver, però non a tutti piace e allora ricordiamo che ci sono le alternative per chi volesse anche portarlo in maniera più elegante o addirittura col cinturino nato più sportivo e abbiamo quegli allestimenti lì. Nascono così da casa madre, le potete scegliere, poi ancora non è disponibile il prezzo dei vari pezzi intercambiabili, delle varie parti di ricambio, però a breve ognuna scelta o nell'altra potrete acquistare i vari cinturini come pezzi aggiuntivi. Sì, io mi sento di spezzare una lancia a favore della versione col cinturino marrone così, più che il nato, bello, nato, sportivo, che sicuramente però avrà meno o meno persone che questo qua col cinturino ampello è veramente... Infatti mi domando perché non abbiano fatto un kit completo con bracciale e cinturino che avrebbe accontentato tutti. Sì, ovviamente siamo a 3600 euro, ci vuole già un babbo natale... Il babbo natale che ci vuole qua è quello che si fa l'autoregalo, hai capito? Sì, 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 penso anch'io che ovviamente la letterina è autoscritta, è automandata. Ma come voi, il regalo a Piero 3600 euro di orologio? No, me lo regalo io, me lo regalo. Ma no, ma no. Da, 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 bestia, stai. E poi altra marca che all'interno del suo catalogo presenta molte varianti di orologio è la Federico Stand. Allora, in questa puntata vi facciamo vedere due varianti iLife, iLife ricordiamo che è una sottofamiglia ovviamente del marchio Federico Stand, nello specifico qui vedete un cronografo, tra l'altro in tiratura limitata, molto bello, è un Panda però con fondo argentè al quale poi viene venduto e aggiunto anche un cinturino intercambiabile e finalmente l'iLife da 39. Oh, ma questo qua da 39 esiste solo con questo quadrante? No, ci sono diverse soluzioni di quadrante, tutti bellissimi, anche ovviamente le versioni da 39 hanno lo sgancio rapido con il doppio cinturino e ovviamente la certificazione COSC. Allora, io dico che la misura da 39 per qualsiasi orologio con bracciale integrato è quella ideale, infatti ho preso anche l'iPhone da 39, è la misura ideale. In questo caso questo quadrante verde che potrebbe sembrare troppo sfacciato, come vedete a seconda della luce diventa nero, quindi è anche abbastanza sobrio per essere verde, ossia può mostrarsi sfacciato alla luce e è un pochino più sobrio quando c'è meno luce. Invece questo qua che è l'iLife cronografo, qua l'abbiamo in versione Panda, sotto contatori neri su quadrante bianco, è un orologio che ho recensito anche io. Sì, sì, l'hai fatto. Calibri di fornitura per entrambe le versioni, per cui anche i prezzi magari si mantengono un pochino più bassi, perché Federico Stante, ricordiamo, fa anche calibri in house, ma a partire mi sembra dagli ore del mondo in su. Sì, dalle ore del mondo in su, l'ore del mondo ovviamente è quella a livello di fascia prezzo più accessibile, poi ovviamente abbiamo anche calibri molto importanti, si parla di calendari completi intorno agli 8.000 euro di listino, ovviamente gli 8.000 euro di listino su Federico Stante possono spaventare, ma se paragonato a quello che offrono è veramente una cifra esigua, perché qualsiasi altra marca di manifattura, un perpetuale lo vende almeno al doppio del prezzo. E poi si sale un pochino di livello adesso con i prezzi? Si, si sale leggermente di livello, un orologio che durante l'anno ha fatto un successo incredibile. Non si sale mica tanto con questo? No, 1.500 euro di listino, poi ovviamente venite da me che ho il miglior prezzo d'Italia, e Vulcan Skin Diver, e questo è veramente un bello orologio. Le colorazioni, ricordiamo che al momento sono due, sono la blu e la nera in catalogo, diverse soluzioni di cinturino, questa è la versione ovviamente con cinturino Tropic, poi volendo abbiamo il similcarbon, si possono allestire, però ovviamente essendo un diver la gomma mi sembra abbastanza azzeccata. E doveva uscire anche una versione braccialata acciaio, anzi doveva uscire il suo bracciale, che poi chi ha già acquistato l'orologio potrà acquistare separatamente, però ancora missing, non sappiamo niente. Si, di questo orologio ho fatto anche la video recensione, chiaramente è uno di quelli da 38 che va per la maggiore, a chi piacciono i diver da 38, perché per esempio per me il 38 è un pochino piccolo, però non tutti hanno il mio pulso, quindi so che va per la maggiore, va, piace, questo qua da 38, lo Skydiver di Edox a 38 vanno come non ci fosse un domani. Si, ovviamente Vulcan si parla già di un marchio un pochino più di nicchia rispetto a tanti che abbiamo citato fino adesso, ci vuole una letterina già più da intenditori, da chi piace l'orogeria. Fa anche calibri di manifattura, il famoso svegliarino, poi qua c'è anche il crono monopulsante. Il crono monopulsante, questa è una versione ovviamente reverse panda con contatore argente, in stock abbiamo ancora la versione col quadrante salmone, come è tipico ovviamente del marchio Vulcan, una tiratura a 50 pezzi mondo. Quello piace, eh? Sì, quello lì piace, noi ci crediamo sempre in quei prodotti lì, abbiamo ancora qualche pezzo, però un orologio che ha avuto un ottimo responso. Insomma, questo qua è un regalino che per Natale si va anche su quel prezzino, però è altrimenti, ecco, e qua a maggior ragione si tratta di un autoregalo, eh, per forza, perché insomma... Non è proprio detto, però ovviamente anche il donatore deve essere bene informato, deve avere avuto un'imboccata ovviamente da... Cioè, non è che si può rischiare di comprare un orologio che non piace, se costa 100 euro glielo puoi anche comprare, no? Non mi piace, eh vabbè, se comincia a parlare di migliaia di euro è meglio andare sul sicuro, è quando si vuole fare un regalo. Questo qua lo porto a casa e ci faccio la recensioncina, eh Giacomo? Sì, sì, volentieri. Poi, sempre rimanendo al solito discorso, per chi vuole uscire dall'orologio scontato e vuole andare su delle forme, su dei colori ovviamente che con dei connotati che esulano dallo standard. Ta-da! Questo è un marchio nuovo che abbiamo acquisito durante l'anno, si chiama Norcane. No, ma sono già abbastanza conosciuti perché hanno lavorato bene col marketing. Sì. E hanno presenza anche a Vicenza, a Vigenza, ora la fiera. Stanno lavorando bene. Questo qua l'ho fatta la recensione? Sì, quello lì ha fatto la recensione. Ci sono... Ovviamente, essendo un marchio che produce solo e esclusivamente orologi, ha tutto un catalogo con tantissimi modelli, forme e con ovviamente sia meccaniche ma anche estetiche differenti. Questo è il Wild One che forse è quello un pochino più particolare di tutta la famiglia. Perché è realizzato in carbonio, ha un cuore di acciaio, di titolo, come vedete qua nel fondello, è un cilindro di titanio. E poi la parte verde è invece in polimero, cioè una gomma che funge da ammortizzatore per il cuore in titanio dove c'è il calibro dentro. Sì, ma il materiale si chiama Nortec. Nortec, bravo. Sì, si chiama Nortec. La particolarità di questo orologio è che questo involucro formato da più parti che va ovviamente a completare la cassa, fa anche da funzione di shock resistant. Cioè è uno dei pochi orologi in cui la meccanica è protetta e ha tipo un ammortizzatore interno che la protegge dagli urti. Sì, l'orologio adatto per gli sport estremi. Se uno vuole giocare a tennis con questo lo può anche fare. Sapete che gli orologi temono un pochino i colpi, le vibrazioni, i sussulti, soprattutto quelli meccanici. Questo qua, con il fatto che c'è questo ammortizzatore, risolve il problema. Poi vi racconto una storia. Sapete che ovviamente con la globalizzazione anche Babbo Natale ha dovuto mettere delle nuove sedi nel mondo. Non esiste più solo la sede della Lapponia, ma hanno aperto una anche a Dubai dove fa partire ovviamente i regali, quelli un pochino più costosi. Allora, dalla Lapponia partono quelli intorno alle 1000 euro, come abbiamo visto prima. Dalla sede di Dubai partono quelli un pochino più ricchi, più costosi. Vi ho preparato qui un tot di orologi di varie marche, ovviamente, con cifre che si attestano da intorno ai 9-10 mila euro a salire. Io quello che consiglio su questa fascia di prezzo qua è, purtroppo ragazzi sono sempre il solito banale, ma è lo Zenith DeFi, qua con il quadrante bianco, che è poco visto. Perché solitamente i quadranti chiari, uno dice la leggibilità se ne va, non se ne va. Qua, guardate qua, sul bianco le sfere e gli indici come sono a contrasto. Zenith DeFi con il suo bellissimo calibro che legge il decimo di secondo, perché la particolarità è che la sfera dei secondi a ore 9 viaggia come un treno, praticamente fa 10 secondi in un giro. E quindi, orologio che ha chiaramente con il bracciale integrato come... Bello orologio, io questo lo consiglio. Qua abbiamo meccanica in house, finiture di primo ordine, orologio di primo ordine. Io questo consiglio. Te Giacomo cosa consigli? Allora, il mio gusto, ovviamente, navigando tutti i giorni nel mondo degli orologi, sono praticamente sommerso da orologi, il mio gusto vanno alle cose un pochino più particolari. Se io in questo momento dovresti, ovviamente, comprarmi un orologio, opterei sicuramente per una forma più particolare, tipo questa, visto che mi fai questa domanda. A proposito di questo, io dovete sapere che in vetrina c'è un Frank Müller bianco che io ho detto, ma io vorrei quello lì, se dovessi scegliere, è da donna. Ma hai detto che è da donna. Io dopo voglio provare quell'orologio lì che dice che è da donna per vedere se veramente il mio polso non ci sta. No, per la verità non è da donna. Nel mondo dell'orologia ci sono sempre diverse misure di prodotto, più grandi e più piccole. Io mi rifaccio sempre all'orologeria che funzionava fino a qualche anno fa, dove l'orologio grande era da uomo, l'orologio piccolo era da donna. Negli ultimi tempi questo ragionamento è venuto meno, perché la tendenza anche per l'uomo è a portare l'orologio sempre più piccolo. Stranamente mi capitano sempre più donne che invece portano l'orologio sempre più grande, perché diciamo che la tendenza si è quasi invertita. Vengono qui donne o mariti che fanno regalo alle proprie mogli che vogliono orologi dai 38 ai 40 mm per il polso femminile. Viceversa, ci sono uomini che invece comprano, facciamo l'esempio dell'orologio che abbiamo fatto vedere prima, i PRX da 35. Sicché non c'è più una regola vera e propria. Forse ora è bene parlare di colorazioni. Ci sono colorazioni più femminili e colorazioni più maschili. Forse è un pochino più quel dettaglio lì che fa la scelta. Ti hai detto i regali per le signore, qua non abbiamo messo nemmeno uno. Quindi dopo, quando vediamo... Dopo facciamo la carrellata e facciamo vedere tutto l'orologio al signore. Questo qua cos'è che consigli ti? Che cos'è? Che razza è? È un Vanguard di nuova generazione, ultra sottile, con cassa curva e movimento ovviamente automatico. sono riusciti a inserire il movimento automatico all'interno di questa curvatura. È venuto fuori un prodotto veramente eccezionale. Tanto più da quest'anno stanno inserendo questi bracciali abbinati alla cassa. Il bracciale è veramente fantastico perché è di una qualità eccezionale con uno spessore veramente contenuto in modo da mantenere questo filo, questa curvatura che ha la cassa. Secondo me hanno fatto un lavoro che poche marche in questo momento sui bracciali hanno. Sì, ripeto, Frank Miller cominciò a piacermi anche a me, strano, ma vero. Questo qua è abbastanza sobrio, dà? Sì. Poi, altro orologio che mi è arrivato in negozio da poco, è un classico ovviamente per il marchio Breitling, perché è un Navi Timer Cronograf. Ricordiamo che Navi Timer è all'interno della famiglia Breitling è l'orologio più rappresentativo del marchio. Questa è già una versione da 41 mm, è già la conformazione nuova che è uscita l'anno scorso, dove sono state apportate alcune modifiche, secondo me, che hanno reso l'orologio ancora più bello rispetto alla versione precedente. Quindi questo qua è il Navi Timer con il calibro di manifattura B01 di Breitling? Di Breitling, è la loro manifattura, e la cassa da 41 era un inserimento nuovo che è stato fatto l'anno scorso, ma volendo esiste la 43 e la 46 in alternativa. Sì. Secondo me, visto i tempi che corrono, la 41 è quella giusta. Navi Timer è sempre stato famoso per essere bello vistoso al polso, ecco, queste versioni da 41 l'hanno un po' ridotto per andare incontro ai gusti delle persone. D'altronde siamo noi che chiediamo misure più contenute e ci vengono incontro le case, come con le Gendaiver da 39, eccetera. Poi, pezzo veramente bellissimo, ve l'abbiamo già fatto vedere in altre occasioni, pezzo di manifattura eccezionale, glass suit original. Glass suit original, eccolo qua, il cronografo con il quadrante blu, le classiche sfere come sul diver, perché io ho recensito la versione diver di questo, ho recensito anche quello rettangolare, mi sembra, quadrato come era, sì, bello. Ovviamente qui, come vi ho detto, la slitta parte da Dubai, l'orologio fa parte di una fascia pezzo che sfora anche il tetto dei 10.000, però ovviamente l'orologio è fantastico, sono tutti prodotti di manifattura di livello eccelso, in tutto e per tutto, sia nelle rifiniture della cassa, dei bracciali, ma soprattutto nella realizzazione delle meccaniche. Cronografo con 30 bar di resistenza alla pressione, eccolo qua. Sì. Finiture di primo ordine, bello orologio sto qua. Rotore acciaio misto oro 21 carati, cioè qui abbiamo veramente a glass suit dove c'è la fabbrica, ci sono, lo ricordo, stanze piene di orologiai specializzati che rifiniscono le platine con le varie decorazioni. Regolazione a collo di cigno, codio de geneve sul rotore, perlage sui punti, guardate le finiture di questo calibro qua sono veramente di primo ordine ragazzi. Anche chi non se ne intende, a colpo d'occhio capisce che qua siamo sopra le righe. Bello orologio, costoso ma ragazzi, d'altronde. Ti vorrei fare una domanda. 16.700, eh? Eh 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 eh, è Dubai. Ti vorrei fare una domanda. Ma secondo te, no? A Dubai usano le renne o cammelli? Per portare la slitta. E poi il Red The Diver. Ahia. Con questo qua. Con questo chiudiamo in bellezza ovviamente le proposte natalizie. Black Pound 50 Fatons, eccolo qua. Questa qua è la versione da 46. Questa qui è la versione da 45 mm. E' il vero e il proprio 50 Fatons con ovviamente... Fondello chiuso, calibro di manifattura all'interno. Tutte le caratteristiche che l'hanno reso famoso con questa bellissima ghiera qua in rilievo. Inserto ghiera a salsicciotto come dico io. Ieri un cliente mi ha chiesto quant'è che fanno il 50 Fatons. Allora non mi ricordo preciso quanti anni è che in produzione ma vi dico tanti. Però quando un orologio... Ora sì era diverso quello del passato. Con questa conformazione qui un pochino più rotondeggiante se lo vogliamo definire così. Io penso che stanno a ventina di anni. Però il fatto che un orologio rimanga in catalogo per tanti anni secondo me è un valore aggiunto. In orologeria. Quando un orologio è soggetto a cambiare tante volte la propria immagine. Poi tende a svalutare anche lo stesso prodotto. No le proprie immagini no perché i restyling sono giusti. Sì però su un prodotto di lusso con che distanza è giusto un restyling? Non lo so. E il problema è quando scompare il modello. No 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 ma il problema è anche un restyling secondo me su a mano a mano che il prezzo del prodotto aumenta il tempo di vita di un orologio si deve allungare. Si chiama un restyling giusto secondo me ogni 6-7 anni su un prodotto veramente di lusso. Anche perché il tempo che tu lo proponga, il tempo che la clientela ovviamente lo recepisca, lo assimili, lo studi. Cioè tutta una serie di caratteristiche. Oggi ci siete voi youtuber che aiutate ovviamente velocizzate questo processo qui. Però prima addirittura è anche molto più lento. Sì che ecco secondo me anche per non svalutare il prodotto che il cliente ha in mano ci vuole un tempo di adattamento. C'è sì quello sì. Va bene io direi di andare a fare un giro per il negozio, per la baracca. Io voglio provare prima il Frank Müller quello da bianco che secondo me mi sta bene. Potrebbe essere la svolta della vita. Sì poi facciamo vedere anche qualche regalo. C'è tutta una carrellata poi di Marche. Per le donnine, il regalino per la donnina bisogna far vedere dai. Oh eccolo qua. Allora mi tolgo l'orologio, mi tolgo. Tieni Piero, tiemilo. Maledetto. E non torna più a casa. Tanto sarà mio un giorno quello lì. Quando morirò. Sì. Oh eccolo. Il Frank Müller ora se è veramente da donna in teoria non mi sta nemmeno al polso. Non mi sta mica. La tristezza. Ma io ti ordino le maglie e te lo faccio stare. Non ci sono problemi. Hai già aperto tutto così? No. C'è anche l'altro lato. Oh è entrato. Ma come disse Cicciolino. Eh sporcaccione. Guardiamo come sta eh. Dai che ti sta. Cazzo eh. Stavo bene. Stavo bene. Porca miseria. È bellino. Sai cosa... Lo potremmo definire un'orologio unisex. Che sia per uomo che per donna. È veramente bellino. No no. È proprio bellino. Porca miseria. Costo 9500 e 5 ne voglio due. Dillo. 32. È bellissimo. Veramente bella. Non può essere da un uomo quello lì. C'è la donna scusa. È bellino. Ma mi piace. Se fosse un attimino. Ma il fatto che costa da donna non puoi fare uno sconto visto che le donne non se lo compreranno mai. Ma io guardo che... No ma glielo regalano i mariti. Ti preoccupare. Ecco qua. Abbiamo fatto vedere l'orologio da donna per... Ora questo qua è... Devo ricordarmi la referenza poi andare a vedere se c'è leggerissimamente ma leggerissimamente più grande. Allora questa qui è la classica cassa Casablanca che loro fanno da tantissimi anni. Esiste in tantissime misure fino ad arrivare ovviamente alla 88-80 che è la più grande di tutti. Però ecco c'è tutta una scalatura di misure. È promosso. E di colori di quadrante. Quello con il centurino bianco non lo provi. Qual è quello con il centurino bianco? Quello con le rose. Quello con le rose sì. A proposito, l'amico Piero si è comprato uno suoce? No, no. Però lui è veramente in tema col Natale. Guardiamo che cosa si è preso l'amico Piero. Dai eccolo qua. Ma l'ho preso per quando faremo il video di Natale. È bello eh. Simson Natalizio. Bellissimo. No, non gli dà la cioffecca. Già come si offende che gli dà la cioffecca. Dai, è questo qua. Dai, come si fa questo? Bellissimo, indossalo. Dai. Dai, che bellissimo. Guarda che bello. Ma è da donna questo no? Sì, questo c'è. Anche quello di prima era da donna. Ma prima era da donna, ma era sobrio. Cioè non posso andare in giro con un orologio così. Ma neanche con quello va in giro, quindi indossalo. Con i fiori, con i fiori. Ah, facciamo così. Non lo indosso nemmeno. Ah, guarda che bello che è. E in pandan con i tatuaggi. Che si scende. Proprio bello. No. No, no, guarda che bello. Bonciato. Tanto dopo ti guardi nel video, vedrai che ti sta bene e direi, l'amico Piero aveva ragione. Faccio quello bianco. Dai, poi facciamo vedere veramente un orologino da Natale. L'hai fatto vedere il mio swatch? L'hai fatto vedere il tuo swatch? Sì, l'hai fatto vedere, è da Natale quello lì. Sì, ma per le signore. Ah, per le signore. Cosa gli regaliamo le signore? Andiamo a vedere qualche orologino da signora, dai. Così facciamo il contente, se no si lamentano sempre. Permesso, mi scusi. Salutavo il follower. Eccolo qui. Cos'è? Mamma mia, qua è piccolo. Qua non si chiedono nemmeno i diametri. Solitamente un orologio da signora va dai 30 ai 34 mm. Addirittura ci sono anche orologi da 28 mm. Però ecco, come si diceva prima, è tutta una questione di gusto personale. Il PRX da 35 potrebbe essere tranquillamente un orologio da signora. Mamma mia. Forse è un po' piccolo. Tra l'altro il PRX da 35 è stato fatto in tante colorazioni, l'Azzurro, Tiffany e diverse varianti che potrebbero anche piacere molto alle signore. Quanto viene? Però le signore 9,95. Va bene, ora proviamo un po' un orologino. Ancora uno da signora, dai. Esageriamo. Il Ventura della Hamilton, è carino. Esiste, signora. Il? Ventura. Il Ventura, Hamilton. Non ascoltate piedi. Perché è bellino. Allora, ultima uscita di Tissot, che lo trovo un orologio veramente elegante, perché quando si parla di orologi da signora, non abbiamo solo la conformazione classica e l'orologio rotondo, ma possiamo anche spaziare su una versione più elegante, tipo proprio bracciale. Questo è il nuovo Dolce Vita, in cassa più squadrata. Come vedete, il quadrante, la stampa del quadrante interno, ricorda un po' un orologio di altri tempi. Praticamente questo qua è quasi un bracciale che si può leggere. Bravo, bravo. Su cui si può leggere l'orario, bellissimo. Lo facciamo vedere. E' questa lavorazione così a quadratini. Come potete vedere, anche il bracciale assume una conformazione diversa, diventa un tutt'uno con la cassa. E' forse più bello le rifiniture del bracciale che l'orologio insieme a sé, perché tutto deve essere contestualizzato. Molto bello. Cioè, il bello dell'orologio da donna che si cura molto di più l'estetica che la parte tecnica interna. Questo permette, ovviamente, di potersi sbizzarire come si vuole. In effetti, cioè, il vero archetipo di orologio da donna sarebbe veramente un bracciale sul quale viene apposto il sistema per ragionare. Certo, ma tante marche anche nel mondo del lusso lo ragionano così. Vi faccio un esempio. Un marchio che non tratto, ma Patè Philippe sull'orologio da donna eppure ha degli orologi in catalogo stupendi, delle manifatture eccezionali, ma sull'orologio da donna usa il quarzo. Sì, sì. Perché? Perché ovviamente si cerca... È più importante magari impreziosire, mettere delle pietre preziose, piuttosto che dare importanza alla meccanica. Allora, il Cartier Tank ha più senso quasi al quarzo da donna, no? Più... Allora, per la donna l'orologio non è una regola, però si sono accorti che è visto più come un gioiello che come un prodotto tecnico. Che non c'è niente di male, perché anche io, cioè, guardo l'aspetto estetico dell'orologio, che sia bello, è come il Frank Müller là bianco. Lo puoi bracciale lì, cavolo, mi piace. Piero compra prevalentemente quarzi, c'è a farsi le domande. Ha smesso a comprare quarzi? Ha smesso? Sì, ha smesso. No, si è evoluto. Si è evoluto. Adesso c'è qualche orologino, c'è l'acqua Resser, c'è il Monaco, c'è gli aderoggi belli. Sì. Ma non svegliamoli tutti. No, no, volendo Oris. Prossimamente su questi canali... Oris fa cosa fa? Ah! Fa l'Aquis, il diverino da donna. Questo non l'ho mai visto. Guarda un po' Piero. La questo con i diamanti, bellissimo. E questo qui, diciamo, è l'orologio più prezioso che in questo momento c'è in catalogo Oris, perché ovviamente monta le pietre preziose, ma per chi non vuole arrivare ovviamente a quei livelli lì, esiste anche l'Aquis, con queste colorazioni madreperlate, più al femminile. Queste sono le versioni con cinturino in cauciu, volendo, esiste anche braccialato in acciaio. Ce n'è veramente per tutti i gusti. Yes! Va bene, dai, gli orologini per le signore l'abbiamo fatti vedere. Spero che siate contenti, amiche del canale. E quindi cosa facciamo, Piero? Prendo la mia telecamerina. Eccoci qua, ci sono io. C'è l'amico Piero che si vergogna, non si capisce mai mai, giustamente si vergogna. E poi c'è il buon Giacomo che è il titolare del negozio. Vi salutiamo, abbiamo finito, vi salutiamo. Vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love!